Un interessante affollato caminetto è stato tenuto nei giorni scorsi dal Rotary Club Anfisia di Rocella Ionica sul grave problema della siccità e dei suoi possibili rimedi. Nei locali del ristorante La Cascina di Rocella, il Rotary Club ha invitato i rappresentanti degli enti che più sono interessati, anche istituzionalmente, al problema dell'acqua. Il sindaco di Rocella Ionica, il presidente del consorzio di bonifica Alto Ionio Reggino, il presidente dei coltivatori diretti della provincia di Reggio Calabria, l'amministratore unico della Ionica Multiservizi di Rocella, il direttore operativo della Sorical, nonché il presidente e il past presidente del Lions Club di quella città. Relatore sul tema l'acqua in più e l'acqua in meno è stato l'ingegnere Massimo Macri, responsabile del compartimento aria centro e sud della Sorical, che è la società della Regione Calabria che gestisce le strutture idriche nella zona Calabra. Il presidente Rotary Club Anfisia, Francesco Cianflone, ha porto il benvenuto agli ospiti e ha poi brevemente accennato alle varie problematiche relative al deficit idrico della Regione Calabria. Il direttore operativo della Sorical, l'ingegnere Giuseppe Sorrentino, ha poi illustrato brevemente l'attuale attività della Sorical e le problematiche che si prospettano per il futuro. E' seguita poi un'interessante relazione dell'ingegnere Macri sul tema del caminetto, relazione che ha spaziato sulla situazione idrica attuale, ai programmi futuri di realizzazione delle necessarie strutture per la captazione, la conservazione del trasporto e le acque potabili, sia per il soddisfacimento idrico della città che per l'irrigazione delle campagne. Il presidente Rotary Club ha poi annunciato nel corso della cena, che è seguita la manifestazione, e che la relazione dell'ingegnere Macri e lo studio sul tema l'acqua bene inesauribile e l'acqua croce di vita, già realizzata dal geologo Claudio Bruno per la commissione Acqua e Ambiente del Club Anfisia, saranno coordinate e pubblicati in un unico volume nel prossimo mese di aprile e messe a disposizione del pubblico.